Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Quest'oggi voglio portarvi un tutorial su Farming Simulator 22 in attesa dell'uscita della Money Mode o Money Tool, come volete chiamarlo. Oggi vi farò vedere come modificare il salvataggio in modo tale di incominciare, iniziare il vostro percorso, la vostra carriera su farming già pieni di soldi in modo tale da potervi comprare già praticamente. È un procedimento molto semplice, difatti è un brevissimo video, ma dobbiamo stare attenti ad alcune cose. Iniziamo subito come prima cosa, iniziamo una carriera, va bene, qualsiasi mappa, qualsiasi modalità non c'è nessun problema, in questo caso facciamo un nuovo agricoltore e selezioniamo questa mappa. Scriviamo la nostra partita, vediamo un attimino se si mette poco a caricarla, 65-85, si direi che è molto veloce, iniziamo. Va bene, il personaggio lo saltiamo, no, non voglio nessuna spiegazione, ci ritroviamo nella nostra farm, siamo pronti ad cominciare il gioco. In alto a sinistra, come ben potete vedere, abbiamo 100.000 euro, ok? Ma noi questa cifra qua la vogliamo cambiare senza utilizzo di mod, premiamo ESC, salviamo la partita e usciamo dal gioco. Non dobbiamo fare altro. Dopo essere usciti sullo schermo principale del computer andiamo, accesso rapido, documenti, my games farming simulator e qua vedete che nel mio caso era salvataggio numero 2, si è creata appunto la cartella di salvataggio. Apriamo la cartella. Il primo file che dobbiamo andare a modificare è Career Save Game. Clicchiamo sopra con il tasto destro, apri con, nel mio caso io lo aprirò in WordPad perché è un po' più ordinato, però va bene anche il blocco notes. Allora la prima voce che dobbiamo andare a modificare, la prima e l'unica voce scusate che dobbiamo andare a modificare è la voce Money. La troviamo tramite il tasto trova, scriviamo Money, troviamo ed eccola qua che lui ci trova i nostri 100.000€. Non dobbiamo fare altro che andare a modificare questo valore, ma non è l'unica cosa da fare, quindi non chiudete il video e guardate il video fino in fuori. Allora cancelliamo il valore che c'è dentro le due virgolette, nel mio caso metterò 9.000.000, 9.000.000. Allora 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 9.000.000. Ma posso anche arrivare fino a 999.999.999.000. Facciamo File, salva, basta. Abbiamo finito il primo passaggio. Chiudiamo. Il secondo file che dobbiamo andare a modificare è Farms. Andiamo sopra con tasto destro, apri con WordPad, trova, anche qua digitiamo la voce Money. Trova successivo ed eccola qua. Praticamente è la prima, seconda, terza, la quarta voce. Anche qua stesso procedimento che dobbiamo fare è cancellare il valore all'interno delle virgolette ed andare a mettere lo stesso identico valore che abbiamo messo nel file CareerSaveGame. Nel mio caso 9.000.000. Quindi 9, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se non mettete lo stesso valore non funzionerà. Quindi salva, non toccate nient'altro, mi raccomando, non toccate nient'altro sennò vi si corrompe il salvataggio e non vi si carica più. Chiudiamo tutto, torniamo su Farming Simulator, avviamo la nostra carriera. Già qua vediamo che ci sono già 9 milioni sul nostro conto. Apriamo il nostro salvataggio e vi faccio vedere che i soldi sono pienamente spendibili 100%. Iniziamo. Allora siamo allo stesso punto di prima ma in alto a destra, scusate, potete vedere che adesso nel nostro bilancio, nel nostro conto corrente ci sono bensì 9 milioni. Quindi andiamo nello shop, compriamo la prima cosa disponibile, questa roba da 500.000 euro va bene così, ecco qua puoi ritirare il tuo acquisto del negozio. Bene ragazzi per questo video è tutto. Spero di avervi dato una mano in attesa della Money Mode. Vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno. Vi invito a seguirmi su Instagram e mi raccomando dai che piano piano cresciamo. Qui da Xedrudo88 è tutto, un saluto ragazzi e alla prossima. Ciao ciao!